30 e più anni fa politiche ambientali, rispetto dell'ecosistema sostenibilità ed etica ambientale non erano il pane quotidiano delle argomentazioni, anzi chi già da allora pionieristicamente se ne occupava veniva visto un po' come un utopico, un idealista dell'ambiente, non si percepiva e non era così quotidiano il riferimento a queste tematiche e la necessità poi di doversene occupare seriamente come purtroppo invece siamo costretti a fare oggi. Altri tempi, altra storia ma già da allora a Fano l'associazione Argonauta iniziò un percorso che darà poi vita al centro di educazione ambientale Casa Archilei. Per la verità più che 30 sarebbero 35 perché siamo entrati qui dopo una lunga trafila iniziata nel 1984 presso l'amministrazione comunale che ha avuto la pazienza e la lungimiranza di credere in questo progetto. Ecco qui si svolgono tutta una serie di attività naturalmente è un centro di educazione ambientale ma anche tante altre cose. Sì, la cosa principale è l'educazione ambientale gestita dall'associazione naturalistica Argonauta i cui attivisti hanno lavorato in tutto questo tempo. In più da qualche anno ci sono attività sempre legate all'educazione ambientale in senso lato, in particolare quella che potremmo definire di carattere alimentare e non solo. Migliaia, 20.000 forse occhio e croce sono i frequentatori che annualmente per lo più giovani cittadini lo frequentano, quello che senza onore di smentita è un vero e proprio fiore all'occhiello a livello regionale se non nazionale. Questa dove ci troviamo è predisposto lo spazio per avere almeno quattro gruppi che possano lavorare in contemporanea utilizzando in particolare gli strumenti di carattere didattico, lì abbiamo dei microscopi, quello che serve quindi per lavori anche di gruppo in questa sala. Per suggellare degnamente questo importante traguardo, l'associazione di volontariato ha per domani organizzato una sorta di open day e festeggiamenti ufficiali, insieme a tutti i protagonisti che hanno reso possibile questo piccolo angolo di paradiso ecologico, sindaci, amministratori e membri delle associazioni. E poi abbiamo un concerto del gruppo Musica Parole perché sono legati a noi in questo senso, sono del territorio e alternano brani musicali con brani di lettura di carattere ambientale. Abbiamo già fatto due volte questa cosa, riesce molto bene, è apprezzato dai frequentatori, quindi la ripetiamo.